un disco mi ha ispirato veramente tantissimo è quello cicoria electric band il primo che così questo è il titolo veramente fondamentale poi secret di alan holsworth per quanto riguarda jamming veramente assurdo mi piace anche per la musica in sé proprio ancora di più di alan holsworth world in clip tower album e anche sempre di alan holsworth sixteen teno sixteenth man of ten però prima di quei due lì e quindi cosa sono le t3 facciamo poi mi piace james taylor perché fai un greatest hits di james taylor un altro che quel livello lì possiamo fare che c'è bombarli un grande decisivo mario mai